Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Finalmente arriva la confessione di Anna Pettinelli sulla sua esclusione dalla prossima edizione di Amici, le parole su Maria De Filippi Mancano ancora pochi giorni alla prima registrazione della prima puntata di Amici ma arrivano già alcune conferme In queste ore infatti alcune parole di Anna Pettinelli hanno reso ufficiale la sua esclusione dalla prossima nuova edizione del Talent La nota conduttrice radiofonica, che negli ultimi anni si è rivelata essere una protagonista del noto format, non sarà più una delle insegnanti di canto Secondo una clamorosa indiscrezione, al suo posto ci sarà la cantante Arisa che tornerà quindi alla corte della De Filippi Una svolta che sembrerebbe però non aver statenato alcuna polemica dietro le quinte del programma La Pettinelli ha infatti voluto rassicurare tutti su suoi attuali rapporti con la conduttrice e volto storico di Casa Mediaset Anna Pettinelli è stata tra le protagoniste dell'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia La conduttrice ha lasciato il segno anche grazie all'outfit scelto per il red carpet, un abito parso a tutti come un vero e proprio vestito da sposa L'evento è però diventato anche il luogo perfetto per una confessione ovvero la natura dei suoi attuali rapporti con la De Filippi Raggiunta infatti dai microfoni di Superguida TV, la conduttrice radiofonica ha deciso di fare il punto sul suo addio ad amici, è stata un'esperienza meravigliosa, divertente, appassionante Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta alle voci perché è tutto a posto La Pettinelli ha quindi chiarito di non avere problemi con la conduttrice anche se non ha specificato se la decisione di lasciare il format sia stata solo della conduttrice o condivisa In entrambi i casi sembrerebbe non aver lasciato l'amaro in bocca alla professionista che continua infatti a portare avanti i suoi progetti Non solo sarà ospite di Alberto Matano nel corso di questa nuova edizione della vita in diretta ma sarà impegnata anche su altri fronti, al momento è tutto top secret, non posso dire nulla ma presto avrete notizie Tirando le somme, l'esclusione dalla prossima edizione del talent potrebbe quindi non trasformarsi in un grande insuccesso ma dare il via a tutta una nuova serie di occasioni per la Pettinelli A coloro che continuano a seguirla non resta quindi che attendere i nuovi prossimi sviluppi Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti